Semplicemente Io è un progetto composito, innanzitutto dedicato ai pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule in stadio localmente avanzato, il che significa una malattia non candidata all'intervento chirurgico d'Amblè, ma nemmeno con localizzazioni metastatiche a distanza, diciamo una condizione intermedia. Fino a poco tempo fa questa era una patologia destinata ad un trattamento chemio e radioterapico, la novità è che c'è l'introduzione di un farmaco immunoterapico anche in questo stadio di malattia, quindi c'è la possibilità di ricevere sempre chemio e radioterapia ma a seguire un farmaco immunoterapico, proprio per questo motivo nasce Semplicemente Io, che come dicevo è un programma composto da più iniziative che prevedono un supporto al clinico e un supporto ai pazienti. Il supporto al clinico prevede innanzitutto una app che semplifica molto la stadiazione della malattia e la possibilità di accedere rapidamente sulla base dello stadio di malattia alle linee guida IOM. Il supporto al clinico è dato anche dal fatto che ci sarà la possibilità per il paziente di accedere ad un numero verde e di chiedere informazioni in merito alla terapia e alla gestione degli effetti collaterali e questo viene in aiuto al paziente ma viene in aiuto anche al clinico. Per il paziente la possibilità di avere materiale informativo in maniera semplice ma scientificamente corretta, c'è la possibilità di avere un programma di supporto molto interessante in alcune città italiane dove la radioterapia non è presente nel centro di riferimento e quindi il paziente avrà la possibilità di accedere ad un trasporto per andare dal domicilio alla sede dove si esegue la radioterapia e poi la possibilità anche di avere informazioni su un argomento che interessa molto i pazienti ma anche i caregiver che è l'alimentazione. Tutti i consigli utili per un'alimentazione corretta e adeguata durante la terapia e per una partnership con Deliveroo in alcune città anche la possibilità di richiedere alcuni piatti a domicilio, piatti ovviamente adeguati alla tipologia di trattamento.